Grazie Anna, pensavo che avesse già dimenticato Oh no, mio zio ha tardato ad uscire, ma appena ho potuto sono corse Signorina, desidera? Un caffè Temevo di non trovarla più Sarei venuto io a cercarla? Oh no Non abbia paura E poi un giorno dovremo dirlo, no? Ma lei mi conosce così poco Si chiama Anna, ha 21 anni, si intende assai di musica, adora la campagna e balla deliziosamente il balsamo E questo le sembra molto? Tanto da non lasciarlo più